Al comunale di Nereto, il Fano batte i padroni di casa per 2-0 ed il distacco tra le due compagini in classifica aumenta di altre tre lunghezze a favore di Granata. Con le immagini di Yuri Cantoro andiamo a vedere gli highlights della gara. La prima occasione arriva il decimo con Antezza che raccoglie un pallone vagante. Tenta una conclusione dal limite dell'area, palla alta ma troppo centrale per impensierire Diglio. Al diciannovesimo spinge ancora la formazione ospite con Serges che dalla destra serve Ricci sul lato opposto, sinistra forte ma la palla si spegne di qualche metro al lato. Al trentaduesimo il Fano va alla ricerca del vantaggio anche sul calcio piazzato. Casolla ci prova col destro ma la conclusione si accomoda sull'esterno della rete. Il primo acquisto del Nereto arriva al trentottesimo con Ristovski, il quale serve un pallone al limite dell'area per Sant'Angelo. Quest'ultimo prende la mira ma la palla finisce di qualche metro sopra la traversa. Nella ripresa il Fano continua a tenere il pallino del gioco in mano mentre il Nereto cerca di subire senza rischiare. Al quarantanevesimo gli ospiti amministrano e spingono sull'acceleratore. Broso viene servito sulla sinistra il quale si accentra, conclude ma il tiro viene arrivato da un difensore locale. Due minuti più tardi il Fano sblocca il risultato. Casolla viene servito al centro dell'area di rigore del Nereto e col piattone destro insacca il vantaggio Granata. Giusto un giro d'orologio più tardi il Nereto risponde con Boito che tira in porta il pallone e viene deviato con il braccio da un difensore del Fano per il direttore di gara e calcio di rigore. Lo stesso Boito si incarica della battuta, va con il destro ma la valla finisce al di fuori della porta e difesa razza Festas. Al sessantaduesimo il Fano porta il risultato sullo 0-2. Calcio di punizione dalla destra abbattuto da Ricci, traiettoria molto insidiosa da parte del pallone che finisce sul secondo palo dove Diglio non può nulla. Al sessantanavesimo il Fano va alla ricerca del Tris dal limite dell'area di rigore e Casolla conclude in porta. Ma Diglio si fa trovare pronto ed in due tempi blocca la sfera. All'ottantasettesimo Boito cerca di riaprire il match con una conclusione di allimitare l'area. Tiro sul primo palo che però non finisce in fondo al sacco. Non succede più nulla, triplice il Fischio ed il Fano vince 2-0. La squadra di Mister Catalano ritrova la vittoria e spera nella rimonta in classifica mentre per il Nereto la luce in fondo al tunnel non si riesce ad intravedere. Oggi era una partita difficile per tante motivazioni. Il cambio sono arrivato due giorni fa ma anche la situazione che questi ragazzi hanno dovuto subire. Quindi un plauso va fatto a loro perché hanno saputo reagire su un campo difficile per tante motivazioni. Motivazioni di classifica, motivazioni ambientali legate al fondo che per la pioggia caduta in questi giorni era molto irregolare. Non permetteva assolutamente di rischiare. Infatti era una partita dove si doveva sbagliare il meno possibile con retropassaggi o cose del genere. Insomma i ragazzi sono stati bravi. Io non mi assumo, non mi prendo nessun merito di questa vittoria. La vittoria è di tutti i ragazzi che hanno sofferto in questo periodo, in questi giorni e oggi meritano di gioire. Fermo restando che non possiamo pensare di aver risolto i problemi con una sola vittoria. È un momentone che sta diventando quasi un tormentone. Però nel calcio le cose si possono sempre comunque risollevare. Ne sono pieni anche gli annali, anche nella mia esperienza l'ho pure vissuto in questi momenti. e bisogna chinare il capo, cospargersi il capo di cenere e intanto chiedere scusa a tutti, ma proprio a tutti. A tutta la società, ai tifosi. Mi hanno commosso a sentirli dire non molliamo, non molliamo alla fine di un'ennesima sconfitta.